Ciao amici, in questo video farò un confronto molto coraggioso tra la Dacia Duster e la Nissan Qashqai. Ora possiamo finalmente dirlo, la Dacia Duster è un successo di pubblico, il SUV partito come low cost del gruppo Renault è stabilmente nella top 10 delle matricolazioni del suo segmento e quindi secondo me è doveroso regalarvi un confronto tra la Nissan Qashqai e la Dacia Duster. Vi lascio alle immagini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.